Un messaggio dei Vescovi di Sicilia viene rivolto in occasione delle elezioni che rinnoveranno il Parlamento della Regione Siciliana il prossimo 25 settembre, unitamente al Parlamento Nazionale. Un messaggio rivolto ai candidati alla guida della Regione, nelle quali i presuli delle diocesi di Sicilia suggeriscono lo stile di governo che potrebbe caratterizzare chi vuole impegnarsi per la polis, sottolineando alcune urgenze che meritano attenzione per lo sviluppo futuro della nostra terra, in particolare tutte quelle situazioni che riguardano le categorie svantaggiati e fragili che soffrono per l'attuale situazione socio-economica. Si avvicina così un momento decisivo che porterà alla scelta di un nuovo governo della nostra Regione. Come pastori delle chiese che sono in Sicilia ci sentiamo compagni di strada del nostro popolo e di quanti come voi saranno chiamati ad agire per la rinascita della speranza della nostra amata isola. Per questo apprezziamo sinceramente la vostra disponibilità a prendervi cura della Sicilia in un momento così complesso e difficile, a partire dal Vangelo che abbiamo ricevuto e che ci chiama a sentirci responsabili della storia di ogni donna e di ogni uomo. Vogliamo pertanto sostenere il vostro sforzo condividendo con voi qualche riflessione suggeritaci dalla nostra missione di pastori. Con fiducia la consegniamo a voi chiamati a prendervi cura della polis. Lo sappiamo la politica richiede uno stile di ascolto, di dialogo, di comprensione, di collaborazione con i cittadini. È difficile ma è indispensabile. Solo così si potrà ridurre il divario tra le attese e le azioni delle nostre città. Tra la loro realtà vive quotidiana la vita e il linguaggio delle istituzioni. Abbiamo bisogno di sentirci sempre più corresponsabili della cosa pubblica, di essere cittadini interessati profondamente alla Sicilia, alla sua storia, al suo futuro. A voi cari candidati spetta il compito, lo sapete bene, di avere una chiara progettualità, di coinvolgere tutti, di far sì che ognuno possa apportare il proprio contributo ideale, il proprio sforzo operativo, semplicemente il proprio mattone. È tempo ed è un sentimento di tanti di rinnovare i patti di lealtà fondati su un autentico desiderio di relazione tra i vari rappresentati, su una fiducia reale nei risorsi umani, valoriali, culturali e spirituali di ognuno. Solo così, concludono i vescovi siciliani, potranno sentirsi coinvolti anche in quei tanti cittadini che sentono la politica in lontana, che ritengono inutile anche il voto, che abbandonano la piazza delle nostre città. Ascoltiamo pertanto i silenzi di chi non partecipa più ai processi democratici.